Sono 2100 i maturandi della provincia di Teramo che hanno iniziato a sostenere gli esami di Stato. Sono sereni questi ragazzi, seduti sui gradini esterni delle scuole, mentre attendono di essere chiamati dalla Commissione che li interrogerà sul loro elaborato come prova prevista dalle nuove regole Covid. La quasi totalità degli studenti ha ricevuto la prima dose del vaccino e quelle che oggi discutono sono delle vere e proprie tesi, impegnative e articolate. L'emozione prima di entrare è comunque tanta. Lei sta per entrare a sostenere i suoi esami di maturità? Insomma, come si sente? Potrei svenire qui da un momento all'altro o sentirmi male, cose simili, sì, sono molto in ansia. La sua tesina su che cos'è? Sull'impotenza del potere, cioè sui limiti dell'uomo applicati anche agli uomini potenti. E chi sono gli uomini potenti? Tutti gli uomini che hanno scritto la storia, ad esempio, tutti quelli che noi continuiamo a studiare. Sono solo uomini, le donne ci sono in questo potere? Purtroppo no. Al liceo classico delfico di Teramo, come negli altri istituti della provincia, i protocolli sanitari sono stati rigidamente applicati e rispettati. Oggi iniziano gli esami di Stato, al liceo classico, insomma la scuola più rappresentativa della città. Come sta andando e come vi siete organizzati? Ci siamo organizzati, beh, l'organizzazione è dettata ai protocolli e abbiamo seguito e dato informazione relativamente a quelle che sono le procedure, così come stabilite. E diciamo che non abbiamo avuto quest'anno, l'anno scorso forse c'è stata qualche difficoltà in più nel senso dal punto di vista della tempistica. Quest'anno diciamo eravamo già pronti, abbiamo allestito gli spazi nel pieno rispetto dei protocolli e soprattutto nel grande rispetto dei ragazzi e della loro tranquillità. Loro hanno tanto bisogno di questo in questo momento. Speriamo di, ma credo, sono convinta di aver, che insomma gli sia stato garantito. La prima maturanda di Teramo, alle otto e mezza, lei ha superato i suoi esami di maturità. Com'è andata? È andata molto bene. Alla fine, nonostante l'emozione iniziale, siamo riusciti ad arrivare fino alla fine senza nessun problema. I professori sono stati molto comprensivi e in generale è andata molto bene. Senza scritti com'è questa maturità? Sicuramente perde quel poetico che c'è nella notte prima degli esami, però nonostante questo la cifra emotiva è sempre molto forte. Ieri è stata una notte di riflessione e questa giornata è molto particolare. Cioè da tutto un punto di vista emozionale. Le regole anti-Covid prevedono che ad entrare all'interno dell'aula sia uno studente per volta, con al massimo un accompagnatore. Genitori ed amici fuori ad aspettare, ma quando si esce è subito festa.